buongiorno ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo video finalmente torniamo a parlare un attimino della juventus nel vero senso della parola perché nell'ultima settimana con questa pausa dovuta ai mondiali magari ci siamo focalizzati anche su altri argomenti che vanno al di là della juve e che magari si intrecciano con la juve abbiamo fatto ieri la carriera della juventus su fifa ve l'ho portata vi lascio comunque il link qui sopra nei commenti magari non ve la siete vista è un video divertente abbastanza breve di una carriera che ho effettivamente giocato in live su twitch e che ho riportato poi qui su youtube sotto forma di racconto una vera e propria narrazione degli eventi ma oggi voglio tornare invece a parlare della juve vera non quella delle youtuber league che abbiamo già analizzato ma dei nostri ragazzi che torneranno torneranno tra l'altro c'ho un po d'ansia nel senso che stasera il mondiale proporrà una partita davvero di cartello per quanto mi riguarda cioè brasile serbia e abbiamo i tre del brasile contro i due della serbia della juve anche se costi c'è qualche problemino da quanto ho capito vedremo se riuscirà ad essere della gara se riuscirà a partecipare perché brasile serbia è una partita molto molto interessante e sono anche curioso finalmente di vedere il brasile che secondo me è una delle squadre candidate in assoluto a vincere la coppa insieme alla francia anche se il mio sogno ve l'ho già detto appunto è vedere argentina contro portogallo anche se il percorso d'argentina in questo momento un po' tortuoso la mia finale da sogno è quella lì la francia mi sembra una delle favorite assolute il brasile per quanto mi riguarda ha nei singoli veramente delle individualità incredibili e soprattutto a livello di reparto difensivo credo che che sia la squadra che ha più da raccontare di tutte vabbè destra e sinistra non eccellenti i terzini perché danilo danialves e alexandro alex teyes non tanta roma però edermi di tau marchinho stiago silva bremer una donna che quattro centrali difensivi incredibili quindi sono veramente curioso poi davanti hanno un potenziale cioè c'è veramente di tutto e di più squadra molto molto interessante ma oggi ve l'ho detto parliamo di juve non di discorsi che si intrecciano con la juve come appunto brasilia e serbia e parliamo di juve ma per farlo voglio partire da un commento che ho trovato qualche settimana fa 4 5 giorni fa proprio sul mio canale youtube perché ve l'avevo promesso facciamo una sorta di valutazione generale in questo momento della stagione della juventus ed è un commento di un ragazzo un signore non lo so che continua a commentarmi i video ma c'è sempre questo tono passivo aggressivo che devo dire la verità non mi fa piacere non è mai maleducato però non è nemmeno mai aperto al dialogo ho ragione io chi la pensa diversamente da me capisce poco e a me queste cose sinceramente non fanno piacere voglio presentarvi prima questo commento ok e dice no no è un video il riferimento è un commento riferimento a un video che avevo fatto in cui parlavo delle cose che erano cambiate no in questo mese con allegri con le sei vittorie di fila in campionato dice no no voi che avete chiesto la testa di allegri dovete cospargervi il capo di cenere e chiedere scusa a chi ha tenuto dura e ha difeso la trincea dagli assalti degli anti juventini non si scorderà mai questa cosa dare dell'idiota a chi ha difeso la juve ancora una volta dimostra che non hai chiari quali siano i valori della juventus in che senso ho dato dell'idiota a chi ha difeso la juve non capisco mi spiace usare questi toni per me mi spiace usare questi toni ma per me la juventus è una scelta ma non è una scelta ma una fede poi l'incitamento lo stadio un vuoto non l'ho proprio digerita tagliarsi le palle da soli incredibile luca incredibile allora prima parto da questo discorso e cioè che sempre lui e sempre un mese fa avevo risposto perché a me le cose finte non piacciono mi aveva chiesto come mai sa lo stadio non avevate in greggio con un unico belato invocato lo stadio un vuoto e che costava troppo e che la juventus faceva schifo e che allegri se ne doveva andare e che forse anche agnelli era meglio che si levasse ai testicoli e cos'è questo cambio di casacca e gli ho detto questa roba non è mai uscita la mia bocca ho sempre detto che ognuno è libero di decidere se andare allo stadio oppure no è che oggi sicuramente il calo delle presenze è comprensibile se poi vuoi mettermi in bocca parole che non ho mai pronunciato fai pure io tifo juventus in ogni caso in ogni momento in questo momento non vedo la mano dell'allenatore ma spero di essere smentito in ogni partita dovresti smettere di vedere solo il bianco e il nero della questione ma anche le scale di grigio visto che anche ieri mi hai lasciato dei commenti abbastanza estremisti verso l'utilizzo delle etichette l'unica giusta e una e una sola juventino io mi ho detto ciao grazie della risposta forse non hai non ti rendi conto l'influenza che hai su chi ti ascolta no non me ne rendo conto assolutamente no ci mancherebbe queste cose io non le guardo assolutamente non le prendo in considerazione mi piange il cuore sentire denigrare bla 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 la shitstorm degli juventini contro juventus non credo proprio di doverla vedere in vita mia ma quindi a questa cosa dello stadio vuoto io avevo già risposto non mi sono mai schierato dalla parte stadio vuoto ho sempre detto e c'è un video in cui racconto proprio questo e dico ognuno ha diritto a fare quello che vuole se non se la sente andare allo stadio perché non si sente rappresentato non gli piace la juve i risultati non arrivano la spesa è troppa che stia a casa se una voglia di andare allo stadio perché comunque gli piace l'atmosfera gli piace vedere i giocatori dal vivo vuole fare un'esperienza che ci fada quindi questa cosa avevo già risposto un mese fa e lui lo sapeva perché mi aveva detto grazie della risposta bla 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 e quindi aveva letto la mia risposta tirarla fuori ancora un mese dopo non lo so è una volontà di farmi passare per il cattivo della situazione fatemi passare per il cattivo della situazione non so che cosa devo dirvi però stiamo parlando di falsità perché io la roba dello stadio vuoto non l'ho mai detta non ho mai chiesto alle persone di non andare allo stadio mai e mai lo farò perché ognuno è libero di fare quel cacchio che vuole nella sua vita così come uno è libero di apprezzare non apprezzare l'allenatore il presidente il giocatore il magazziniere ognuno è libero di avere la propria idea la propria posizione io non vi ho mai detto siete degli idioti perché pensate di verso me e mai lo farò nel momento in cui inizierò a fare questi discorsi ragazzi chiamate qualcuno perché sono da rinchiudere ma non perché è una cosa stupida ma perché non l'ho mai fatto non fa parte di me non fa parte della persona che sono quindi se un giorno dovessi arrivare a dirvi sapete cosa la pensi di verso me sei un coglione chiamate qualcuno aiutatemi perché vuol dire che qualcosa è successo così come chi utilizza le etichette perché questo signore ragazzo non so quanti anni abbia sempre un mese fa mi diceva no io sono allegriano e quindi mi dovete ma già chi usa le etichette ma allegriano anti allegriano ma ragazzi ma è il carro è questo è quell'altro ma perché non si può essere soltanto giuventini con delle posizioni che possono cambiare io quando è tornato allegri ero contento perché ho detto torno allenatore vincente vediamo se riesce a ridare quell'identità e quella mentalità vincente alla juventus dopo un anno che questa cosa non è arrivata ho detto va bene abbiamo sempre cambiato anno dopo anno di un anno in anno vediamo se riesce a dare qualcosa di più con un anno di lavoro alle spalle un mercato fatto per le sue esigenze diamogli fiducia un anti allegriano ragiona così no quando poi ci siamo ritrovati nel momento di difficoltà estrema dove in champions le cose andavano male in campionato le cose andavano male e dove non vedevo appunto la mano dell'allenatore vi ho detto ragazzi io cambierei l'allenatore un allegriano ragiona così no ora che allegri sta ritrovando un attimo il bandolo della matassa in serie a vi sto dicendo se l'avrei esonerato dopo monza perché c'era anche un discorso temporale in mezzo e c'erano anche delle richieste dal punto di vista sportivo che ti facevano prendere dall'idea di cambiare allenatore lo cambierei questo è un allegriano anti allegriano ma ragazzi ma ma capite quanto è scema questa cosa cioè nel momento in cui uno utilizza un etichetta e dice io sono allegriano anti allegriano e quindi ragionerò sempre in funzione di difendere la posizione che ho scelto non si sarà mai obiettivi non si sarà mai coerenti queste cose vanno prese stracciate e combattute se allegri vince il campionato sono contentissimo se allegri vince l'europa league sono contentissimo ho detto che andava esonerato dopo monza sì e lo confermo ma lo torno anche a dire non abbiamo ancora risolto niente attenzione a dire cospargetevi il capo di cenere perché avete chiesto l'esonero di allegri quando le cose andavano male e guarda adesso ragazzi un attimino è un attimino perché non voglio mica che passi inosservata questa cosa perché io ce l'ho già fatto il video sul girone di champions e ve l'ho detto voto 2 dicevo è una valutazione che uscilla tra il 2 e il 3 sceglietela voi non dobbiamo dimenticarci che siamo usciti dal girone di champions a ottobre non dobbiamo dimenticarci che abbiamo perso abbiamo perso dal maccabi haifa e siamo stati presi appallonati dal benfica perché io capisco dal psg sono mica qui a dirvi che dovevamo andare a parigi o in casa col psg e dominare la partita e stravincere con un 3 4 gol a 0 io ho visto tre partite dal vivo quest'anno psg psg e mancabi in casa le due col psg sono andate come dovevano l'hai vinto si ha provato a fare qualcosa il psg più forte si ci sta a perdere magari si poteva pareggiare bla bla ci sta a perdere non è un problema quella col maccabi in casa è l'unica che hai vinto le tre che non ho visto sono le tre partite che mi hanno dato fastidio e cioè perdere in israele contro il maccabi che non vinceva vent'anni con loro che meritano e strameritano e tu che praticamente ti iscrivi all'uscita dal girone di champions e le due col benfica che per me sono clamorosamente vergognose le due partite col benfica sono clamorosamente vergognose quindi io non mi dimentico che siamo usciti al girone di champions al girone di champions con tre punti fatti e una sola vittoria quella roba lì ha un peso specifico importantissimo sulla stagione importantissimo andrebbe fatta una media ponderata nemmeno aritmetica io ho due e non faccio la media ponderata non faccio la media ponderata ma aritmetica non voglio esagerare però quello lì è una roba da due da due in pagella poi serie a lato serie a per me da sei per me da sei questa situazione attuale in serie a della juventus parlo di risultati è di concreto la classifica come siamo messi adesso non percorsi e il momento in cui siamo quindi al terzo posto due punti dal primo io quest'estate quando vi ho fatto la prediction vi ho detto ci sono tre squadre juve milan inter che sono lì e se la possano giocare e se la juve arriva tra la prima e la terza posizione giocandosi lo scudetto ci può stare ora non ci stiamo giocando lo scudetto perché il napoli sta facendo un campionato a parte ma non ha ancora vinto e sono due cose che vanno a braccetto queste due e invece che l'inter nella corsa c'è appunto il napoli juve milan sono lì che se la giocano quindi come la juve oggi è nella situazione in cui mi immaginavo potesse essere alla fine del campionato poi anche qui non è finita cioè il napolino ha vinto la juve non è non è finita si può migliorare si può peggiorare però do sei do un sei alla situazione perché era quello che mi immaginavo né di più né di meno e quindi la sufficienza non è un'insufficienza perché abbiamo rimontato e quindi ci siamo tolti un po dalla situazione difficile dove eravamo ottavi decimi in serie a non siamo sopra quindi non posso andare sopra le mie aspettative un sei per il momento abbastanza insipido perché non è esaltante è una situazione una posizione non esaltante per la juventus e per una juventus che deve tornare a vincere dopo un anno fatto male quindi facciamo la media aritmetica il 2 della champions più il 6 del campionato fa 8 diviso 2 fa 4 vogliamo esagerare non è 2 ma è 3 in champions va bene 3 più 6 fa 9 diviso 2 fa 4 e mezzo io fino a questo momento la stagione della juventus ragazzi è altro che cospargermi il capo di cenere per me è una stagione da 4 barra 4 e mezzo è una stagione che non arriva al 5 perché il giorno di champions è necessario passarlo è un obiettivo ed è un obiettivo fallito miseramente tremendamente e io devo sentirmi dire che mi devo cospargere il capo di cenere perché ho osato dire che le cose andavano male ma ragazzi ma bianna memoria corta bianna memoria ci siamo scordati dei disastri che abbiamo dovuto attraversare in europa questa cosa non dimentichiamocela mica cioè non non facciamo passare il fatto che sei vittorie di fila in serie a è un terzo posto raggiunto in serie a che da un paio d'anni tre anni quattro anni che diciamo sì però la ragazza della serie a campionato in serie a inizia ad essere poco allenante per quelli che sono gli obiettivi veri del calcio mondiale è ovvio che la juve che adesso è cavata terribilmente anche in serie a lo prende volentieri un terzo posto dopo due quarti posti di fila ma il terzo posto ragazzi non è niente non è niente e non è che uno attenzione perché non è che uno si era messo in quel periodo a criticare allegri perché era divertente andava di moda lo voleva fare si divertiva uno criticava allegri perché non si vedeva la mano dell'allenatore uno criticava allegri perché la juventus non poteva essere in quella posizione né in italia né in europa e se in italia si è data una giustata perché sono 38 partite invece che 6 in europa sono 6 del girone non si è riuscita a dare la giustata e si è usciti e si è fatta la figura barbina terrificante cioè quando si fanno le valutazioni sulle parti di stagione dato che adesso abbiamo terminato la prima parte probabilmente di tre di stagione possiamo ragionare primo terzo di stagione primo terzo di stagione se se uno me lo viene a narrare a descrivere immaginare positivo perché abbiamo vinto sei partiti di fila nelle ultime sei vi dico che probabilmente siete degli illusi vi dico che probabilmente siete degli illusi o che avete la memoria corta o che andate a sovrascrivere una memoria attuale per tornaconto personale perché ve lo dicevo prima se uno vuole per forza di cose mettere in evidenza un'etichetta e quindi difendere quell'idea che ha scelto di difendere non si riuscirà mai a essere obiettivi coerenti per essere obiettivi coerenti bisogna prendere con le pinze tutto e svuotarsi svuotarsi delle etichette non aver paura di dire ho sbagliato io sono qui a dirvi o avrei generato allegri sì in questo momento non ha senso generarlo ma non sono conquistato perché magari le prossime sei che ricominciamo in gennaio torniamo a essere ballerini altalenanti o magari no e appunto aspetto la valutazione per dare un giudizio definitivo se dovesse poi allegri vincermi il campionato l'europa league sarò il primo a essere felice di essermi sbagliato il primo a dire mi sono sbagliato ma io fino a quel momento lì in cui abbiamo ricominciato a vincere per formare le sei in serie a di fila non vedevo la mano dell'allenatore ma che cospargermi il capo di cenere di cosa significherebbe rivalutare le sensazioni che ho vissuto in diretta per cosa per sei vittorie in fine serie a non riesco veramente cioè queste cose mi fanno arrabbiare ragazzi mi dispiace vi chiedo anche scusa se questo video sono abbastanza alterato se però cioè poi ti ritrovi sti commenti qui che ti fanno passare per un idiota perché davvero sono commenti scritti per farti passare per idiota per farti passare per quello che fa le shitstorm sulla juventus ma cosa cosa deve dire uno con la juventus che va male come è andata male la juventus fino a quel momento lì brava juventus evviva la juventus forza la juventus magica la juventus dato che siamo la juventus sicuramente vinceremo ragazzi il calcio è un'altra roba quello è il mondo delle favole calcio è un'altra roba quello lì è il mondo delle favole per vincere nel calcio te lo devi meritare devi mettere in campo devi metterlo in campo e devi metterlo nel lavoro quotidiano negli allenamenti nel modo di preparare la settimana cosa che in questo momento e ribadisco proprio perché non ho etichette da difendere queste robe qui mi sento di riconoscere alla squadra mi sento di riconoscere all'allenatore cose che si stanno vedendo appunto in queste sei partite ma sei partite su 38 di campionato non sono niente ragazzi non sono niente non sono niente non sono niente ragazzi lasciamoci da parte le valutazioni definitive e l'ho già detto qualcuno può tradirmi allora però su allegri eri definitivo sì ero definitivo perché la mia conferma di allegri per questa stagione nasceva da un grosso dubbio di riconferma dell'anno scorso e io dopo la finale di coppa italia che va a decretare gli zero titoli per la juventus l'anno scorso lo dico chiaro e tondo confermerei allegri perché è giusto dare una seconda possibilità un secondo anno per vedere la crescita e queste cose qui però attenzione che non ci sono più scusanti la juventus non può più permettersi una figura come allegri che guadagna così tanto e che è stato preso esattamente per quelle cose lì per tornare a vincere non può più permettersi di non vincere e non può più permettersi di fare delle parti di stagione in cui le cose vanno male però poi le aggiustiamo perché anche l'anno scorso siamo partiti male siamo arrivati alla fine e direi mamma mia se però le avessimo vinte quelle all'inizio mamma mia mamma mia mamma mia mamma mia mamma mia mamma mia e adesso siamo qua a dire eh però noi abbiamo vinto sei di fila ora ragazzi allora decidiamoci eh allora decidiamoci mamma mia perché dovevamo vincerle o è va bene fa lo stesso anche se le perdiamo ma perché a volte mi viene da dire che si è perso di vista il punto vocale del discorso e cioè che la squadra è la juventus e che se ne frega chi l'alena chi ci gioca chi è il presidente perché tu ti fii la maglia ti fii i colori il bianco e il nero a strisce e non quegli altri e non la voglia di sentirsi dire ah vedi che avevo ragione io ah vedi che mi hai torto te per tanti questo è il calcio eh e probabilmente per quello che che è il mio modo di vivere il calcio credo che non se lo vivano bene ma per niente e contribuiscono a creare un ambiente tossico un ambiente tossico se vogliete scrivere commenti pieni di falsità come quella dello stadio o per far passare gli altri per deficienti fate pure vostro diritto come mio diritto rispondere difendermi da da queste cose qui